La bacinella, il spezzo di sapone, le coperture, il bambino ha bisogno per annatto di prematuri di stare al caldo, nonostante si parli di Africa, qualcosa molto semplice, strumenti anche molto semplici, qua trovate un respiratore, ci sono bambini che nascono prematuri e questo qua si usa ore e ore infermieri che pompano per dare l'ossigenza del bambino e che possa respirare.